Ed Marvels è il simbolo del fallimento dell'MCU. Non è un film brutto, però è un film che non ha niente. Non ha una storia interessante, non ha dei personaggi che ti fanno emozionare. Poi un'altra storia che fa parare nel metaverso, che tra l'altro non c'entra un cazzo con tutte le altre storie del metaverso, niente torna con niente. Poi io credo che sia stato rimontato per stare sotto le due ore. Anche perché ci sono dei pezzi che proprio è come se mancano al film, dei pezzi di storia che non tornano. E tu cosa ne pensi dell'MCU? Secondo te può ancora essere salvato? Fammelo sapere nei commenti. Ormai dopo più di dieci anni il Marvel Cinematic Universe ha stancato. E non lo dico io, lo dicono gli incassi. Questi film sempre mediocre, con questo universo sempre più confusionario, non c'è più una direzione. Però nella scena post credit c'è quella cosa che ti fa dire uh che bello ed è quel fanservice per cui stanno raschiando il barile per vedere se ci caschi ancora. A questo punto io sono veramente dubbioso sul futuro di questa saga. Di base sono Mauro Simonetti, seguimi qui su YouTube per altre cose nerds e simpatiche.